Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Andrea Zamburlin, il regista del film J-loop e la Zambu recensione di oggi sarà su Bad Boys Ride or Die, ovvero il quarto capitolo della saga di Bad Boys. Prima di iniziare però, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è importantissimo per far crescere i contenuti. Inoltre potete seguire me e anche il mio film sui social, quindi vi lascio qui sotto i nomi dei profili da seguire. Si dice così? Sì, bella. Iniziamo. Adil El Arbi e Bilal Falla, Falla, sì, sto leggendo, sono quindi tornati alla regia dopo il terzo capitolo e mi sento di dire che sono tornati alla grande. Sembrava quasi avessero paura di dare la loro impronta alla storia, comunque al franchise, per non mancare di rispetto a Michael Bay. Cosa che invece in questo quarto capitolo letteralmente esce fuori la personalità dei due registi sin dalle prime inquadrature, dai primi minuti, perché è chiaro sin da subito un certo stile che ho apprezzato tantissimo e nonostante io sia forse il fan numero uno di Michael Bay, anzi devo ringraziare Michael Bay perché se non ci fosse stato lui probabilmente io non avrei lo stile di regia che ho attualmente, quindi mi ha formato, sono un suo pulcino, un suo bambino, mi sono perso nella frase. Comunque era per dire che nonostante io sia un fan di Michael Bay non mi ha fatto rimpiangere la sua regia. Tra l'altro Bay c'è anche in un cameo, in uno dei suoi soliti dove guida la macchina e viene fermato, dice una qualche battuta che dà solo il tempo al pubblico di dire Ehi, ma lui è Michael Bay! I due registi sono quindi promossi a pieni voti e in maniera molto molto più apprezzata rispetto al precedente capitolo che risultava essere fatto bene ma col compitino, nel senso sì, discreto, però mancava di personalità. A questo giro invece la personalità è straripante ed è figa perché ci sono tutta una serie di caratterizzazioni stilistiche, sto parlando quindi proprio di regia, per tutte le parti comiche, dalle inquadrature distorte di quando Marcus è fuori di testa o anche a tutta la parte un po' più visionaria che sin da subito poi caratterizzerà anche l'intero film quindi con scelte proprio di, non solo di inquadrature ma anche con la fotografia in un certo modo e insomma tutto funziona per creare proprio un nuovo linguaggio all'interno di Bad Boys senza andarci poi a dimenticare della bellissima e spettacolare, vale il biglietto, scena finale dove è diventata ormai famosa per il backstage di Will Smith che ci mostra come avevano fatto la soggettiva della pistola perché quella scena ragazzi è una bomba, quello che si vede nel backstage, quello che si può vedere frammentato nel trailer è una piccola parte di una scena non troppo lunga perché si vede che era stata pensata per essere quei 30 secondi di wow cazzo cosa sto vedendo perché io mi sono entusiasmato tantissimo, mi sono proprio gasato per solo aver avuto questa idea e di averla messa a punto in modo differente dalle altre tipologie di soggettive viste in altri film è stato veramente fantastico quindi promossi a pieni voti finalmente con la loro personalità e c'è ancora un'altra parte molto bella che mi è piaciuta che è la scena del cargo, dell'aereoplano cargo militare non ho idea di come si dica in maniera tecnica quell'aereo lì comunque un cargo dove non mi sembra di averlo visto nel trailer infatti ero abbastanza incuriosito nel momento in cui si stava prospettando e sviluppando davanti ai miei occhi perché non avevo idea di cosa stesse succedendo fighissima, girata molto bene con dei movimenti di camera tra l'altro molto interessanti la nuova identità registrica è stata promossa a pieni voti a parere praticamente unanime da tutti mi sento di promuovere anche la sceneggiatura perché l'ho trovata molto più simile a quella del 2 quindi a Bad Boys 2 che alternava momenti di grande comicità a momenti di grande azione seppur l'azione in questo caso è su una scala più bassa rispetto al Colossal di Bay ci saranno sicuramente un paio di scene cult di questo film quindi quelle che verranno citate di più rappresentative di questa pellicola che sono non tanto magari quelle d'azione ma quelle comiche il grande mattatore a questo giro è Martin Lawrence che forse a livello di screen time non lo so vorrei cronometrare ma forse sta anche superiore a Will Smith è veramente il boss della pellicola bisogna ancora dire un'altra cosa che a differenza del capitolo 3 che segnava secondo me un'avventura un po' a sé stante cercando quasi di rebuttare il tutto per lanciare la nuova squadra di giovani questo giro invece viene ridimensionata la squadra dei giovani e viene limitata da solo due personaggi riprendono le redini dell'avventura solo Mike e Marcus i collegamenti con i capitoli precedenti sono più marcati molto della trama e collegata al capitolo 2 con tanto anche di immagini ripeto l'incipit è un po' forzatino però comunque va a riscavare nei ricordi i collegamenti seppur forzati ci sono dicono ma sì tutto più o meno può quadrare quando invece il collegamento con il terzo capitolo in questo caso è limitato solo alla presenza del figlio di Mike che gli aiuterà nella sua redenzione a risolvere la situazione e a sconfiggere il cattivone cattivone che tra l'altro non ha nulla a che vedere ecco questa è una pecca nulla a che vedere come carisma con Johnny Tappia che era quello del 2 che è stato il cattivo più bello di tutta la saga di Bad Boys questo giro un po' stereotipato un po' scritto un po' così diciamo un po' superficiale che bello puoi vedere che finalmente sono riusciti a dare una scena d'azione in cui Reggie è il protagonista assoluto e si prende un po' la sua rivincita per tutto lo schifo che si è dovuto prendere poveretto nel corso della sua permanenza con la famiglia Burnett oltre ad essere stato bello perché finalmente lo vedi in azione perché viene solo raccontato nel 3 che poi è diventato Marine e anche nel 4 viene ribadita questa cosa però non lo si vede mai invece a sto giro al suo momento tra l'altro scelta secondo me azzeccatissima quella di non farlo vedere nel trailer poi a fine film ci sarà una scena in particolare che va proprio a citare quella chi cazzo è Reggie che tutti quanti noi amiamo ma la ripropone in una maniera alternativa e ho apprezzato tantissimo la citazione non solo a livello di quadro cioè di inquadratura per come è composta che doveva rimandare a quella del 2 ma anche per il fatto che sia stata usata per chiudere il film io ho concluso di dirvi quello che volevo raccontarvi su Bad Boys Ride or Die spero di avervi convinto ad andarlo a vedere al cinema potete portarvi dietro tra l'altro chiunque anche non fan della saga possono anche non aver visto il capitolo 1, 2 e 3 si divertirebbero ugualmente guardando questo tra l'altro nella mia personale classifica metterei questo quarto capitolo al secondo posto quindi il primo è il 2 poi 4 poi 1 e poi 3 noi ci vediamo alla prossima video recensione se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale potete seguirmi sui social sia me che al mio film che si chiama Jloop e niente ci vediamo alla prossima grazie per l'attenzione ciao 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 ciao